Si celebra oggi la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO nel 1994. Quella di quest'anno, la 26esima, ha un sapore del tutto particolare perché l'emergenza Covid ha cambiato e non poco le aspettative della società nei confronti della scuola e dei docenti in particolare. Ammesso che sia mai stato possibile pensare all'insegnante come a colui che istruisce e fornisce conoscenze e competenze, è del tutto evidente che in questa fase il docente deve essere considerato un professionista, un educatore capace di motivare i giovani ad apprendere e a diventare cittadini consapevoli e responsabili. Difficilmente supereremo i mille problemi dell'emergenza se non ci impegniamo tutti, adulti, giovani, bambini, ad assumere comportamenti responsabili nei confronti di noi stessi, della comunità di cui facciamo parte e dell'ambiente in cui viviamo. E in questo i docenti giocano un ruolo decisivo e determinante. Ma non basta la buona volontà dei singoli, cheppure è importante. Occorrono condizioni di contesto che è compito di chi governa il Paese garantire, a partire dalle condizioni economiche e contrattuali. E, giusto per non dimenticarsene, è bene ricordare ogni tanto che gli stipendi dei docenti italiani sono fra i più bassi in Europa. La tabella che proponiamo, basata sugli ultimi dati Ocse e rielaborati dalla rivista Money.it, fornisce un quadro desolante. L'Italia è il Paese con gli stipendi dei docenti più bassi, ma è anche quello in cui occorre più tempo per raggiungere il massimo della retribuzione, 35 anni. Quello dello stipendio però non è l'unico dei problemi. Il mestiere dell'insegnante è sostanzialmente bloccato, privo di sbocchi e di sviluppi di carriera. In una testata giornalistica un bravo cronista può diventare caporedattore. In un ospedale un medico competente può essere nominato primario. Nella scuola non esistono meccanismi analoghi e questo risulta spesso poco motivante per gli insegnanti. Certo non va trascurato anche l'altro versante, quello dei doveri, che però, come ormai riconosciuto da più parti e da più tempo, non possono restare legati solo agli aspetti normativi e contrattuali, ma devono essere definiti con un vero e proprio codice deontologico, così come avviene per altre professioni, medico, avvocato, giornalista e altre ancora. Senza dimenticare anche il grande tema di come si diventa docenti e di come si viene assunti, tema quanto mai attuale proprio in questi giorni. La prossima settimana prenderà avvio la sessione di bilancio che si concluderà in Parlamento intorno a Natale con l'approvazione della legge finanziaria per il 2021. Noi ci auguriamo che il Parlamento voglia tenere nella giusta considerazione il tema della formazione, ma soprattutto quello della posizione dei docenti. Si tratta di riconoscere agli insegnanti l'importanza del ruolo delicatissimo che essi rivestono. Ed è con questo augurio che ci rivolgiamo a tutti voi in questa giornata, nella certezza che continuerete ad operare nelle vostre scuole, nelle vostre classi come veri educatori e non come semplici erogatori di conoscenze e competenze. Bene, su questo vi invitiamo a mandarci i vostri commenti, a raccontarci le vostre esperienze. Continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it